Bakun disse vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un proprio siena? Allora accertati che nessuno possa possedere il potere. Io sono libertario. Il nostro obiettivo è sempre il solito. Liberare questo paese da chi ci invade, liberarlo dai tedeschi, liberarlo dai fascisti. E se non se ne vanno, anche dagli americani. Le chiameremo Frank. E già gli ha fatto il suo dovere. Per ora. Cos'altro vi serve? La città. Delle squadre Frank erano ammazza. Non vogliamo fare del male a nessuno noi! Siete un povero incosciente. Voi mi state per chiedere di tradire il mio paese. Io mi sto chiedendo di salvare. E' un povero incosciente. Stai attento Silvano. E' un gioco pericoloso. E finora sei stato fortunato. Una fortuna non è mai per sempre. Non posso scappare. Chiamate tutti a rifugio. Prenderò ogni singolo membro delle tue squadre. Siete quello che ha detto solo Silvano Ferri dammi con l'orologio se non ti ammazzo. Quando è finita la guerra noi non ci fermiamo. Il volto di Costanzio. Il Gliadio cambierà. Oggi. Ascolta!